Ragazzi bentornati qui con il mio nonno video Della mia serie Cazzeggio totale su GTA 4 Allora questo è il nonno video e quindi stiamo per finire questa serie Però vorrei continuare di un altro paio di episodi L'altra serie a bombazza Perché mi piaceva troppo giocare E la prossima serie Penso di farla su Modern Warfare 3 Io non ce l'ho, oggi me lo presta Un mio amico Che è Francesco Che vi avevo detto l'altra volta che avevo fatto quei due o tre video insieme E niente me lo presta E faccio questa serie sempre di 10 episodi Ok ora iniziamo subito a cazzeggiare come sempre Prendiamo le armi E l'annulator E oggi andiamo a fare Andate andiamo a fare Un po' di paracadutismo No andiamo dal coso della donna dove dovevamo andare tempo fa Però non ci siamo andati Non so perché Dai Qua Non so perché non ci siamo andati Comunque l'altra volta Non so se avete visto l'altro video Ma c'era Gesù Nell'altro video Vi dico che c'era Gesù Abbiamo trovato Gesù in GTA Cioè non so se vi rendete conto Che figo Dai ma dove sta sta Eccola Giù 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 Non sull'H possibilmente Non c'è Perfetto c'è anche la vista di atterraggio Ammazza 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 Perfetto Perfetto Tu No ma che parli sta dall'altra parte No ma che parli sta Ma che parli Ammazza ma io non sono morto mamma mia mi chiameranno l'immortale era questa che palle no l'ho ammazzata era questo infieriamo sul cadale che palle ho sbagliato vabbè sti cavoli la stessa stella sono campioni fai sali 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 fai fribbio due elicotteri direi che ho ci sono ragazze ma dove cacchio stanno vai giù lì lì il programma destinazione dove fare un camperone un altro punto mio qua bella botta no ma c'è questo coso adesso casco e muovi no ma c'è questo coso adesso casco e muovi no bravo dove è il ricottolo rompiglioni lo sento madonna ma sta sotto cesto no 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 fermo un po' ti devo ammazzare fermo che palle niente ok perfetto vuoi spararmi adesso spara 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 ma ancora la distruzione ma non è perso è molto spacco però ma ma ancora lo spaccato ma anche lo spaccato stavola non c'è niente ma le battuglie e tutte queste cose io me ne vado me ne vado con una moto no no dobbiamo andare con una moto no no raga devo saltare con la moto madonna che freestyle si si raga ragazzi oggi faremo un freestyle sono morto faremo un freestyle dai tetti faremo andrò con l'elicottero sopra tutti i tetti più alti e poi da quelli tetti salterò con la mia moto mamma mia che figata freestyle oh finalmente aggiorno annihilator dov'è annihilator? dov'è il mio elicottero? parcheggiato ah si ok perfetto magari tipo qui a terra no no giusto lui è un elicottero buono non appare mai dove ci sono le macchine sempre dove non ci sono ok andiamo sopra un tutto e facciamo freestyle ecco qua ecco qua ma che quello esatto la vita più alta del gioco no questa è la vita più alta però da lì non si può fare ecco qua calma 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 qui è difficilissimo ok calma no ma ma è impossibile fare freestyle oh si si che si può fare è facilissimo ma voglio se si può fare però devo attirare perfetto no vabbè qui no qui è troppo facile lì qui è perfetto per freestyle dai vediamo quanto se moriamo secondo me no salta perfetto via mi si è contorto il braccio però sono vivo trucchi nrg90 dov'è la mia moto? ok pronti? non mamma mia quanto sei emozionato il casco? ma mettiamo la mia radio no no raga sale troppo figo che è sta roba? un libro vabbè dai chiamiamo un'altra moto vai ok ho voluto fare un spaccone ho una moto perfetto oh 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 una moto gribbio qua qua non qua non là che palle che palle va bene che palle va bene perfetto nooo ok allora con calma saltiamo però con calma piano giù ok e fino a qua ci siamo prendi il telefono trucchi nrg90 perfetto mamma mia ragazzi vai vai sali sali su questo moto sali perfetto no devo mettere la mia radio vai col frenzio no no ma come sono morto sono morto così secco mamma mia ora freestyle con la macchina ci cappotteremo in una maniera pazzesca però vabbè è così il divertimento questo è il divertimento vai l'ultima volta trucchi salute armi base animator bella bella limusine potrei fare freestyle con quello ok perfetto però l'ha tornato bene la polizia naturalmente non mi dice niente ed è qui cioè perfetto e ho una stella cazzo è troppo ho un elicottero e ho una stella ho un elicottero creo il panico in tutta la città ma è una stella sopra questo ci riusciamo dai su di ci riusciamo minchia altissima oddio santo il mio sogno ma ci dove stavamo prima cavolo perfetto da qua con la macchina però ok ma tu madre vai perfetto qui giusto no? ma dai non stiamo scherzando insomma percorre ragazzi si percorre dai una macchina buona niente la comet del basso buona turismo no 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 turismo no la buffa no turismo vai vai col fiotto no lo sapevo me l'avevo già immaginato madonna pam perfetto ora facciamo un po' di freestyle con la moto e poi abbiamo finito il video e ci vediamo per l'ultimo video il decimo ragazzi decimo decimo naturalmente la salute perché senza salute non si campera come disse mio nonno senza salute non si campera dai che sennò la mia mamma la telecamera non mi regge i video perchè è pieno di video non cancellatemi anche uno su sale sul salito no andiamo sopra quello no vabbè non mi piace andiamo lì non è impossibile vabbè andiamo sul solito vabbè andiamo sul solito vabbè andiamo sul solito ma il solito no no qui non c'è un mandato vabbè l'ho visto il mio tetto finale eccolo qua questo qui a triangolo calma calma terra terra subito perfetto la terra subito segni quindi con calma trucchi salute e nel regino ma qui non si va a cavolo no vabbè ci proveremo lo stesso penso che non penso che non ce la faremo no raga è impossibile ecco forse si può in un modo forse si potrebbe fare no è impossibile che palle che palle regà se la faccio io devo farlo comparire qua madonna al primo colpo ah il casco dal pisello lo prendiamo casco dal pisello 1 2 3 super freestyle sono già morto? si perfetto il video finisce qua con questa morte fantastica il casco ce lo togliamo lo rimettiamo nel nostro pisello e ci andiamo a casa ciao al prossimo video commentate iscrivetevi e fate quello che sapete fare ciao al prossimo video